Saluto amici di Simonello e benvenuti in questo nuovo video Oggi sono qui per registrare, con finalmente lo schermo registrato, una partita di volta a football Come vedete eravamo rimasti qui, con il menu della carriera tecnico Comunque, intanto che aspettiamo che il video si accenda, perché qualche volta la mia Nintendo Switch fa un po' la monella Andiamo, non andiamo su volta a football, ma facciamo una partita normale a volta Facciamo allora, su, calcio d'inizio Facciamo così Così Andremo a fare, praticamente, cosa è successo? Vabbè così Andremo a giocare Manchester United Newcastle in 5v5 Con Così Andiamo in Inghilterra Facciamo Anzi no, va fatto 4v4 amici, non è 5v5 Qui Inghilterra, intanto lì c'era, so, c'era i Dima, non c'entra Ok, così Manchester United Anche se io preferisco il City, ma è tutto collegato perché va fatto apposta a questo processo Per giocare una partita bellissima, combattutissima Con anche i player, io giocherò con lo United perché è più spettacolo, più skill così Andiamo a prendere il Newcastle E andiamo a prendere queste maglie anche perché sono le mie preferite Dobbiamo scegliere il campo New York Per questa specialità di video Bisogna prendere o New York o Rio de Janeiro In questo caso prendiamo Rio de Janeiro perché mi piace di più a me Allora, scegliamo la formazione Il modulo dovrà essere L'1-2-0 Con davanti Allora, aspettate che Sancio fuori Dentro Oilund e Garnaccio davanti Perché sono quali più skillati Garnaccio di qui Garnaccio dall'altra parte McTominay Non un codine per sole Ma Enzo Fernandec Non fate caso alla batteria console Quasi scarica State tranquilli E adesso andiamo qui Fermi che intanto Come poi capricci la Nintendo Ve l'ho detto Allora No, devo rifare tutto da capo Aspettate amici Datemi 5 secondi Che vi risistemo tutto E ci vediamo quando parte la partita Eccoci amici Abbiamo risettato Impostazioni E siamo pronti a partire Difficoltà leggenda Sempre leggenda Siamo nel quartiere Di Rio de Janeiro Molto bello come campo questo Palla loro 4 contro 4 Si comincia Rubiamo palla Cerchiamo di rubare palla È un po' difficile È un po' difficile anche per me Perché Praticamente è già Difficoltà leggenda Ma poi C'è Il problema è che Non si C'è Non sto vedendo tanto io Perché Sto vedendo dallo schermo Dove sto registrando Provo subito Provo subito il tiro Con il garnaccio Che viene murato Però Bravo Eilund Ben recupero palla Tiro Bell Gol di Eilund Subito 1 a 0 Per noi Intanto fa un po' strano Vedere le persone Dal balcone Che guardano Una partita Di calcio A 5 C'è Pensate ai poveri ragazzi Che vogliono trovarsi In tutto il campo A 5 Di Di quel quartiere Però vedono Occupato da Questi Giocatori Di C'è Non di grandissimo Livello Però comunque Avere Bruno Fernandes Sotto casa O Nana E Pup Non è che C'è Pensate Se avrei giocato Questa partita Con Con la squadra Delle leggende Che si trovavano Pelè sotto casa Che è ormai morto Purtroppo Orei Anche se Secondo me Non è il calciatore Più forte Della storia Del calcio Con tutto il rispetto Per Pelè Però Io preferisco Messi E anche In base ai trofei Lo dicono Che Messi È stato Il calciatore Più forte Della storia E anche Il più completo Intanto Bruno Fernandes Se la alza E fa un tiro Clamoroso Guardate Vi faccio vedere Il replay Esulta Indicando Quelli che Guardano dal balcone PEM La fa rimbalzare Solo un pizzichino Orca Meno male che C'è un'ana In porta Un buon portiere Che in realtà Nella realtà Non sta facendo Benissimo È un'ana Con Manchester United Sta combinando Un po' Qualche papera Proviamo qualche Skill strana Tiro di vernaccio Gol 3-0 E ricordo Che siamo A difficoltà Leggente Solo per farvi capire Ok Adesso Stiamo A 5 minuti Riregistrazione Però stiamo Facendo una buona Partita 3-0 È anche divertente Secondo me Con questi player Perché sono Skillati Aspettate Ok Vai Aspettate Si un attimo Fa un po' I capricci Questa Nintendo Switch Mannaggia Ok Con anche I balconi Che c'hanno Sulle cose Fanno proprio I capricci È la lista Nintendo Garnaccio Pop Che parata Clamorosa Che ho fatto Oilund Unico difensore Aia Non è rimasto Dietro Nessuno Rischiamo Di super Gol No Bruno Fernandes Grande Onana Non so Perché sto Dicendo Fernandes Ma Non ho Detto Bruno Fernandes Comunque Dal titolo Capirete Che La partita Più Bella Scriverò La partita Più Bella Di Volta Football Del Secolo Perché C'è Non è la partita In generale C'è Non è proprio Come la sto Giocando Ma è proprio I player C'è Il campo Fa tutta la differenza Perché Con questi player E con Con queste impostazioni Ti diverti tantissimo Io ho provato un po' A farlo con tutte le altre squadre Ma Io Questa è la partita In cui Mi sto divertendo di più C'è Con queste impostazioni Intanto Carnaccio Fa un tunnel E poi Segna Famoroso Carnaccio Dai baci al pubblico Però Tac Pop Bucca le mani A Pop Pop Poteva un pochino Qualcosa Google Intanto Siamo 4 a 0 Questo video Non so quanto durerà Secondo me Durerà intorno ai 15 minuti Forse Più o meno Giù così Una durata Più lunga Del solito Comunque Il video più lungo Che ho fatto È 30 minuti Recentemente Poi anche Perché Recentemente Ho girato il video Quello della carriera Alinatore Intanto provo il tiro Ma Non riesco a segnare Perché ho provato A fare quel video Vi ricordate Delle due partite Che avevamo fatto Tantissima registrazione C'è tipo 30 minuti E Avete visto In parecchi Quel video Mi pare che Ne avreste visto In Quasi mille persone Mi sembra Quel video lì Della carriera Allenatore Mi sembra L'episodio 2 No L'episodio 2 O 3 No L'episodio 3 L'episodio 3 Era Sì L'episodio 3 Perché nel 2 Veniva pagata La clausola Regissoria di ferro Comunque domani State tranquilli Che arriverà Il video Della carriera Tanto 5 a 0 Clamorolo 5 a 0 5 Tra l'altro Avrò anche oggi Quando state vedendo Questo video Perché lo sto registrando Sempre lo stesso video Ho anche gli allenamenti Sono Adesso che ore sono Sono le 16 e 21 Mentre sto registrando Questo video Voi lo vedrete Intorno alle 5 Secondo Com'è Cioè Tra qualche Tra un'oretta e mezza Ho gli allenamenti Sempre con l'azzurra Per quello Intanto Garnaccio Sfodera la sua tripletta Sfodera Un bellissimo gol Garnaccio Uno dei giocatori Miei preferiti Anzi Vi dico Anche la mia Top 10 Preferita No Top 5 Allora vi dico Primo posto Island Secondo Bellingham Il giocatore Più Più forte Del mondo Secondo me Adesso Terzo Messi Quarto Leao Quinto La Miniamal Poi ci sono Garnaccio Mbappé Neymar Un po' Tutta la compagnia Lì Anche Vinicius Sfodera E questi Anche Giroud Poi 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 Se non Se non Se non Se non fosse Stato causato Dall'infortuni La sua carriera Tanto 7 a 0 Con Manchester United Nonostante Siamo a Difficoltà Leggenda Io vi consiglio Se siete Dei principianti Cioè se siete Proprio neofiti Dico Riccardo Questo Titolo Della saga FIFA Barra EAFC Chiamatela Come volete Però Io ho giocato A tre titoli Cioè Io sono in possesso Di FIFA 21 FIFA 22 E EAFC 24 Però Ho avuto L'opportunità Di provare Diversi FIFA Ho provato FIFA 16 FIFA 15 L'ho provato Ed è quello Secondo me Che mi è piaciuto Di più FIFA 15 FIFA 16 FIFA 17 FIFA 18 FIFA 19 FIFA 20 FIFA 21 22 Che ce li ho in possesso FIFA 23 Che l'ho provato E EAFC 24 Che è il mio possesso Comunque Ne ho provati Molti di FIFA Il FIFA 15 È il mio preferito Mi piacerebbe Tanto ancora Rigiocarci A FIFA 15 Perché L'avevo provato A casa di un mio amico Ed era Mi avrà piaciuto Molto Quello lì Era il 2018 Quando avevo provato I Vari FIFA 15 FIFA 16 FIFA 17 Li avevo provati Tutti in quell'anno Intanto È finita la partita Amici Io vi saluto Con Le migliori azioni Secondo me Spero che questo video Vi sia piaciuto Vi ricordo Di mettere Tanti pollici Su Zero Pollici Ingiù Fate un mondo Di visualizzazioni E noi ci vediamo Al prossimo video Sempre qui sul mio canale YouTube Ci vediamo domani Con Il video Della Della carriera Allenatore Comunque vi sto facendo Scorrere un po' Tutte le animazioni Della partita Un po' Tutto il secondo tempo È questo Guardate qui C'è il goal In teoria C'è un pochino Più avanti Ci dovrebbe essere Il goal In teoria Sì Qua c'è il goal Ve lo faccio Scorrere Dal recupero Palla Di carnaccio Ecco E noi ci vediamo In un prossimo video Ciao Ciao